Le Rampoli combinano Insigne, Fabian Ruiz, il pallone per Mertens, palla limita in Zilischi e poi si sente la più posizione vinta di fuorigioco avvicino Insigne, si è accentrato il 3-2 attenzione, Zilischi vuole la presa avversaria pallone in mezzo, un pallone in con Zilischi, un pallone e stava arrivando subito di Insigne in Diora, Mattel e Niles, la cassetta che erano a testa il pallone arriva adesso, la francese la mette in mezzo, Mattel e Niles, la topa sotto arrivai a spazio il mio cuore, a spazio il mio cuore albero, arriva a fine 14esimo del primo tempo Zilischi, poi Mario Rui, di testa Mario Rui, di testa e anche di possieri, al volo prima fammi a Ruiz a sterzata, Torrera, partentino, deviazione avrebbe alla doppia della Arsenal e sono via a Vamo, e' ne ce la fuggire catta! Non ce la va! Non mi hai mai fatto mai! Caramaglio è lui! Vola di Open, sopra il caicolo. Vamo, vuoi! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Non vanno, sei a UFD, non fai a posta il parametro! Sì UFD! Per Zilisky, non è regore. Zilisky, la ventina e mezzo... Ci vuole attaccare! Questa famiglia non vorremmo, la mette in fondo all'interno. Non c'è la giocata, perché è un movimento più tra le spalle di Colissini. Verso Billy che c'è, che non ha rischi di presa. Insigne. La pure in me! Ti ha già buffegato su una mare! Ti ha già buffegato su una mare! Più le candela! Rimane voglia notizia di più, ma buffegato su una mare! E' boh! E' boh! Attacca uno spazio centramente a Zelischi, Palloni in mezzo! Lasciutti a te! Bella però questa azione, uno e due attaccanti incontro, in questo caso Milik e Insigne che fa la sponda per l'inserimento di Kayekov. A fondo a Colasinac, in seguito da Jusay, in area di rigore la terzino, arriva sul fondo, Meret! Non è finita! Meta la Nels! Meret! Mostruoso! Anche Zelischi, lancia per Insigne. L'ha fatto gol a Milik! Insigne, l'ha mette in vento! CELISCHI! Un'occazione colossale per il Napoli! Come si fa con il Napoli? E' questo qua! L'assaltezza non potrà attaccare la mia, che resiste a capire la mia famiglia, come Gullipalino, un cicanto, lo fermo, solo sull'azione offensiva, in parte per il pericolo, in parte per il pericolo, in area di rigore! Un'assa! Donny Pugni, Cech! Un'assa! 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 Più della difensaria di Napoli, che prova a ripartire, non c'è Butette! Che muove errore all'Emiliezza! Vince 2 a 0! Un'assa! Grazie.